E in rovina l'ex Collegio Sacro Cuore, uno dei palazzi storici di Acate, Atos ha completamente danneggiato il tetto già pericolante. Il Consiglio Comunale aveva dato mandato politico al Sindaco di effettuare l'immissione in possesso del Collegio Principi di Biscari di proprietà del Comune, al fine di salvaguardare la struttura. Ad oggi però, sembra non sia stata fatta nessuna azione di recupero dell'immobile. Il Presidente si faccia portavoce di questa istanza dei consiglieri comunali, ma di tutto il Consiglio Comunale e della cittadinanza, nei confronti della sovrintendenza, perché anch'essa possa agire in modo autonomo o intervenire e quindi sollecitare l'amministrazione affinché questo bene venga preservato e venga riportato al suo splendore che è merito. L'edificio rientra fra quelli storici soggetti a tutela e proprio per questo è stato chiesto al Presidente del Consiglio, Giuseppe Di Natale, di organizzare un incontro con la sovrintendenza ai beni culturali di Ragusa. Nel sepoloro che abbiamo fatto abbiamo visto proprio una parte di tetto caduta, stiamo chiedendo, stanno chiedendo, quindi diciamo subordinatamente in ghiei a quel tempo, un incontro con il sovrintendente per quale ragione? Molto semplice. Quello intanto è di vedere se esiste la possibilità che questo immobile che è tutelato all'essenza della 39 possa avere rifinanziamento da parte della sovrintendenza. Dopodiché in via subordinata che si faccia qualcosa, qualche decreto che imbonga all'ente comunale di agire su questo tema.